E' stata celebrata dal Vescovo di Piazza Almerina, Monsignore Rosario Gisana, la messa per i detenuti e il personale in servizio nella casa circondariale di Contrada Barate a Gela, un appuntamento che si ripete ogni anno tra il calore umano di chi sta dietro le sbarre per avere commesso dei reati, un appuntamento molto sentito in un Natale di speranza. E' un momento tradizionale, come si suole dire, anche se a me non piace molto usare questo aggettivo perché mi piacerebbe intervenire di più, visitare di più, soprattutto alla luce di quello che il Signore ci indica ammonendoci, visitate coloro che vivono nelle carceri, perché nelle carceri, perché chiunque fa una piccola cosa a queste persone è come se l'avessimo fatto a lui stesso. Non è facile, è forse più facile riuscire a vedere Gesù in un povero, vedere Gesù in una persona ammalata, in un bambino, ma vedere Gesù in un carcerato, soprattutto perché porta con sé un atto di trasgressione più o meno grave, come si fa. Allora io credo che in questo Natale vorrei a tutti augurare quello che Gesù in fondo ci comunica con una grande verità. Dobbiamo imparare ad amare i nostri nemici. Il direttore del carcere Gabriella Di Franco. Questo è un momento abbastanza delicato. È chiaro che l'autodeterminazione al detenuto non si esplicita nella possibilità di andare a casa per le feste o altro. Chi rimane fuori è quello che rimane più sconsolato. Il detenuto, l'afflizione delle famiglie, in questo momento si tocca con particolare gravità. L'augurio dell'amministrazione penitenziaria, l'augurio che questo carcere, questa struttura in particolare fa, è di poter ripercorrere produttivamente percorsi di speranza, quindi col fare, con l'impegno. La presenza del Vescovo oggi e di un'iniziativa come quella di Sant'Egidio dà proprio contezza di questa virtuosità del nostro istituto e della Polizia Veneziale che ha ben recepito il messaggio della sicurezza, intesa come svolgimento non solo di operazioni tipiche di Polizia ma anche di contatto con la comunità esterna. Ieri la comunità Sant'Egidio ha organizzato anche il pranzo di Natale, un gesto che esalta l'importanza di vivere la socialità in maniera solidale e costruttiva. Noi oggi abbiamo organizzato questa giornata, questo pranzo di Natale per poter portare una speranza una speranza che viene dal cuore e che ci viene insegnata da Nostro Signore Gesù Cristo. Infatti noi cerchiamo di portare il Vancello nei cuori degli uomini.